Nella tarda serata di ieri i carabinieri della Compagnia di Agropoli sono riusciti ad intercettare e bloccare un'autovettura sulla strada statale 18 con a bordo due giovani di ascea di 24 e 34 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, che alla vista dei militari hanno tentato di disfarsi di un ingente quantitativo di droga. I militari sono riusciti a recuperare 1,6 grammi di eroina, 5 grammi di cocaina ed un panetto d'ascisce dal peso di quasi 100 grammi. I due giovani sono stati arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio e su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno condotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari.